Musica E' soddisfatto Pisapia della decisione del prefetto di Milano di commissariare l'impresa Maltauro finita nella graticola di Expo Intanto l'inchiesta si allarga anche ai viaggi onerosi della regione per promuovere Expo Partiranno questa sera le ronde organizzate dai commercianti di Porta Venezia nate per difendersi dal degrado della zona ma Palazzo Marino e le forze dell'ordine sono contrarie Dopo sei anni di crisi il settore del turismo torna a crescere infatti quest'anno si registra un aumento del 6% I dati sono stati raccontati alla presentazione della Borsa Internazionale del Turismo Inaugurato alla fabbrica del vapore il murale che celebra i 20 anni di democrazia in Sudafrica è la figura di Nelson Mandela All'inaugurazione c'era anche il console generale della Repubblica Sudafricana Musica Buonasera, buonasera anche dal TGN Benvenuti a questa edizione che apriamo parlando ancora dell'inchiesta su Expo perché la decisione del prefetto di Milano di commissariare l'impresa Maltauro trova la piena approvazione del sindaco di Milano Pisapia Nel frattempo però l'inchiesta si allarga perché iniziano indagini anche sui viaggi ad esempio i viaggi molto onerosi che sono stati definiti anche viaggi da Prima Repubblica organizzati proprio dalla regione Lombardia Ma sentiamo Michele Lanati Alla fine, come auspicato dal presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone l'impresa Maltauro è stata commissariata dal prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca L'azienda, nel mirino dell'inchiesta sulla cosiddetta cupola degli appalti legata ad Expo 2015 secondo il prefetto ha avuto un modus operandi tale da adattarsi alle pressioni criminali pur di acquisire commesse dunque è necessaria una straordinaria e temporanea gestione esterna dell'impresa di costruzioni La misura perdurerà fino al termine dei lavori e il prefetto in concomitanza al commissariamento ha nominato Armando Brendolese come amministratore dell'azienda Il provvedimento piace anche al sindaco di Milano Giuliano Pisapia Il prefetto di fronte a una richiesta quale quella del dottor Cantone che come ho già detto è stata una richiesta anche raffinata dal punto di vista giuridico ha provveduto come era doveroso dal suo punto di vista Nel frattempo, nell'ambito dell'inchiesta che vede indagati per induzione in debita il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni e il capo della sua segreteria Giacomo Ciriello si apprende che sono in corso accertamenti della procura di Busto Arsizio anche su alcuni viaggi del World Expo Tour ossia le missioni internazionali organizzate dalla regione per promuovere l'esposizione universale in particolare l'attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando sulle spese sostenute e ritenute forse eccessive per un viaggio a Tokyo avvenuto a giugno 2014 a cui ha partecipato il vicepresidente regionale Mario Mantovani E sono arrivate nel pomeriggio ovviamente diverse repliche, diversi commenti ha parlato per primo Roberto Maroni, ha detto da quando ci sono io la regione Lombardia ha ridotto oneri di gestione e costi di missioni istituzionali controllate pure, questo è il commento di Maroni su Twitter nel frattempo c'è anche una nota della regione che dice nel viaggio promozionale per l'Expo a Tokyo la delegazione della regione Lombardia guidata dal vicepresidente Mario Mantovani era composta solo da 4 persone compreso lo stesso Mantovani e ha avuto un costo totale inferiore a 25 mila euro subito la replica del capogruppo del patto civico in consiglio regionale Lucia Castellano che mette in dubbio il costo inferiore a 25 mila euro che appunto dichiarati dalla regione Lombardia possibile dice la Castellano che la missione a Tokyo sia costata a meno di 25 mila euro quando per andare a Barcellona la regione ne ha spesi 23 mila quindi a questo punto sono attese ovviamente altre dichiarazioni cambiamo argomento, nonostante la contrarietà del comune e i paletti posti dalla prefettura partono questa sera le ronde a Porta Venezia organizzate da alcuni commercianti le polemiche però non si placano perché Palazzo Marino e anche le forze dell'ordine sono contrarie si comincia stasera dalle ore 20 fino a domani mattina e dureranno per un periodo non ancora definito non hanno connotazioni politiche essendo organizzate non dai militanti di un partito ma da semplici commercianti ma nella sostanza ricalcano le ronde di matrice leghista sono i sopralluoghi tenuti dall'ASCOM di Porta Venezia che verranno attuati nel tentativo di dare un piccolo supporto a comune e forze dell'ordine nel controllo della zona che è vittima di crescente degrado e da tempo rifugio di profughi e ritrei un supporto ritenuto però da chi ne dovrebbe beneficiare non solo inutile ma anche sgradito a partire dal sindaco Giuliano Pisapia che più volte si è detto nettamente contrario a questo tipo di iniziative e non ha certo cambiato idea le ronde sono però al vaglio anche del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto che precisa che i controlli già ci sono e se necessario verranno incentivati non solo la prefettura ha sottolineato che le associazioni di volontari con compiti di mera osservazione e segnalazione alle forze dell'ordine sono consentite ma a patto che le persone che li attuano siano iscritte in un elenco apposito dopo aver dimostrato di essere in possesso di determinati requisiti i commercianti dal canto loro sostengono però che la situazione è diventata insostenibile e che svolgeranno questa attività ovviamente senza l'ausilio di armi essendo muniti soltanto di fischietto e cellulare e che saranno facilmente riconoscibili grazie ad un'apposita pettorina in più, fanno sapere, i loro volti sono noti a Digos e Questura contro questa iniziativa però oggi si è schierato anche Mario Furlan il fondatore e responsabile dei City Angels che ha spiegato che l'ordine pubblico e il suo mantenimento spetta solo agli organi preposti e che le ronde, oltre ad essere inutili creano solo nervosismo cambiamo argomento ma restiamo a parlare del Comune perché il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha depositato 230 amendamenti alla delibera sul bilancio di previsione appunto di Palazzo Marino che sarà discussa lunedì prossimo l'ho reso noto il Vice Presidente del Consiglio Comunale Milano Riccardo Decorato anche quest'anno non daremo tregua a una maggioranza che sta piegando i milanesi sotto una montagna di tasse mai vista dal dopoguerra ad oggi ha spiegato a fronte di una tale portata di tasse non vengono dati abbastanza fondi alle forze dell'ordine e ai progetti per la sicurezza quindi anche in relazione alle ronde di cui abbiamo appena parlato il terzo settore, le istituzioni a Palazzo Lombardia hanno presentato il bilancio del piano triennale 2010 2013 emergo voluto per favorire le assunzioni dei disabili nelle aziende nonostante la crisi cresce il numero delle persone assunte nella provincia di Milano grazie ovviamente agli incentivi sentiamo Massimo Schiarinzi un'occasione per tracciare un bilancio del piano per favorire l'occupazione delle persone con disabilità a Palazzo Lombardia questa mattina istituzioni, associazioni e terzo settore hanno illustrato i risultati del progetto 2010-2013 con i fondi della dote di inserimento emergo acronimo per esperienza, metodologie e risorse che generano opportunità sono 4.464 in totale i disabili che sono riusciti a trovare un posto di lavoro negli ultimi tre anni il 63% dei contratti stipulati sono a tempo indeterminato in particolare 1.235 persone hanno ottenuto un avviamento lavorativo formale grazie al piano predisposto dagli enti locali parliamo di investimenti in questo settore con riferimento a tutti i finanziamenti di Regione Lombardia e della provincia di Milano ma anche dell'efficacia delle politiche che abbiamo portato avanti in un periodo di crisi profonde di grandi modifiche degli assetti e delle organizzazioni e delle imprese il piano emergo ha previsto misure specifiche per sostenere il mantenimento del posto di lavoro per i disabili occupati 250 le imprese che hanno ricevuto incentivi per le assunzioni per un totale di oltre 2 milioni di euro resta però il problema legato a quelle aziende che preferiscono pagare una sanzione piuttosto che inserire disabili nei loro organici come previsto dalla legge il piano provinciale emergo sicuramente aiuta molto ad incentivare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità da questo punto di vista in un quadro generale di crisi l'inserimento lavorativo di persone con disabilità va bene paradossalmente è emergenza poveri ed emarginati nelle stazioni italiane spesso uno dei pochi punti di riferimento per i senza fissa dimora nelle città fanno preoccupare infatti i dati del rapporto annuale dell'osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane complessivamente il 70% degli utenti è rappresentato da stranieri anche se si fa sapere la percentuale degli italiani sta progressivamente aumentando significativo poi anche il dato secondo cui le porte degli help center si aprono in media 725 volte al giorno accogliendo 6 persone primi utenti ogni ora a Milano con 22.380 accessi complessivi Milano appunto ha registrato 14.092 utenti dei quali 11.000 uomini e 2.400 donne e adesso parliamo invece di un settore che nonostante la crisi è in crescita parliamo di quello del turismo che dopo sei anni segnala finalmente un segno positivo infatti più 6% nel 2014 oggi all'ExpoGate se ne è parlato nel corso della presentazione della Borsa Internazionale del Turismo del prossimo anno vediamo una nuova formula per la 35esima bit in Italia e lo sbarco del turismo italiano in Cina è la rivoluzione proposta dalla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera Milano a Rò dal 12 al 14 febbraio del 2015 alla Fiera del Turismo Cinese di Guangzhou che si terrà nel marzo del 2015 la presentazione questa mattina è stata l'occasione per fare il punto sul turismo italiano grazie a una ricerca che ha segnalato le novità del settore all'ExpoGate i dati dicono che gli italiani che viaggiano ormai sono solo il 60%